tempo d'estate un tempo durante il quale si ha più tempo per se stessi solitamente sia per esempio più tempo per leggere possiamo dare dei consigli di lettura per questa estate difficilissimo perché è sterminata la schiera dei libri che ci stanno davanti proponiamo di andare per sorteggio per pura casualità anzi no cominciamo con i libri sui quali nei nostri circoli di lettura lavoreremo in autunno su molti dei libri che vi cito al volo proprio rapidamente ci sono le nostre recensioni e video nel nostro sito ma insomma cominciamo con gianni stuparic che fu un autore a cavallo fra 8 e 900 soprattutto di primo novecento era nato nel 1891 morto nel 1961 un anno di scuola il suo racconto più celebre ripubblicato da quodlibet una ragazza di forte personalità in una classe di maturandi non liceo di trieste a inizio novecento entra in questa classe unica femmina e scompiglia sbalestra la compattezza dei maschi questo racconto piacque molto a eugenio montale amico di stuparic e montale si adoperò perché venisse pubblicato questo racconto e lo stesso autore l'editore quodlibet presenta l'isola e poi anche il ritorno del padre due racconti splendidi triestini sul rapporto bello forte amoroso difficile inquieto fidato e diffidente fra padre fra un padre e un figlio da prima un racconto su un bambino che adora la grande figura del padre poi il racconto di un figlio adulto che vede il padre anziano malato già che siamo trieste fermiamoci a trieste con italo svevo italo svevo che pubblicò questo romanzo senilità nel 1898 molto molto in anticipo per esempio sulla coscienza di zeno che sarà del 1923 e alla fine del novecento questo romanzo è di una fortissima modernità si ripropone ripropone il tema della inettitudine del personaggio principale che si innamora da una ragazza sveglia vispa di facili costumi forse come si usava a dire una volta ma non è nemmeno l'altezza di questa storia un romanzo molto bello che a me ricorda un libro scritto molto più tardi da dino buzzati un amore c'è una rassomiglianza e scoprite questo svevo di fine novecento di dopo passa un autore che ci è caro sono noti grandi sui romanzi una vita bella mi ci sono altri romanzi e moltissimi racconti bellissimi qui io vi invito a leggere pierre e jean un romanzo che parla del rapporto anche amoroso affettivo ma anche di diffidenza di estraneità di gelosia fra due fratelli si dice spesso fratelli coltelli in questo caso c'è una strana eredità che premia uno solo dei due fratelli un groviglio familiare sullo sfondo della normandia la grande classe stilistica e narrativa di chi devo possa al volo è appena morto colma mccarty il grande scrittore americano di cui era uscito poco prima della morte il suo ultimissimo romanzo il passeggero ostico bello intenso da leggere con calma io voglio raccomandare magari di perché non l'avesse ancora fatto di leggere qualcosa di suo già pubblicato per esempio quello che io ritengo essere probabilmente il suo capolavoro la strada un romanzo distopico come si usa dire in un tempo apocalittico un papà e un figlio quasi unici sopravvissuti al mondo la forza della tenerezza di un rapporto fra padre e figlio dentro un disastro d'apocalisse un libro forte bello oppure oltre il confine il ciclo cosiddetto del west della della natura un ragazzo che dal nuovo messico voleva arcare il confine andarsene in messico che era il paese della nonna con una lupa catturata e semi addomesticata un grande tuffo nella natura e nella cattiveria e nella rara bontà degli uomini corman mccarty si potrebbe andare avanti beh fra le novità fra le novità gli amanti del genere giallo possono gioire se conoscono già il vice questore rocco schiavone creato da gianni manzini di antonio antonio manzini perché è appena uscito l'ennesimo volume dedicato a questa saga di questo vice questore rocco schiavone si intitola help antonio manzini l'autore io consiglio di cominciare dal primo libro di questa serie la pista nera perché poi questo vice questore incavolato con il mondo mandato in castigo dei superiori dalla sua roma amatissima su in val d'aosta ha un suo divenire dentro tutto questo ciclo per chi lo conosce c'è quest'ultima intricata bella simpatica anche umoristica equa la drammatica vicenda marco balzano marco balzano uno scrittore che abbiamo imparato a conoscere con romanzi suoi belli e questa volta è un romanzo suo che un romanzo è un libretto con una serie di racconti concatenati intitolato café royal vorrei dire un balzano minore nel senso non della diminuzio ma nel senso che se nei suoi romanzi ha uno sguardo sinfonico qui siamo al quartetto o al quintetto sono piccoli bozzetti café royal un café dove milanese dove sfila il mondo variato divertente commovente intenerito con qualche guizzo di ironie di giudizio da parte di balzano una sorta di bibita frizzante dedicata con molta sensibilità alla varia umanità vi ho detto alcuni titoli ma voi la cosa migliore che possiate fare è scegliere i libri che volete indovinare a naso il nostro sito www.circolo dei libri.ch circolo dei libri una parola sola presenta decine di video di recensioni che vi possono aiutare per il resto seguite il vostro istinto e vi auguriamo buona lettura per questo tempo d'estate